Ciao e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube, io sono Federico Muriero e oggi parliamo dell'Italian Bike Festival in questa seconda parte Questo è il secondo video di questa piccola serie dato che sono andato all'Italian Bike Festival la scorsa settimana ho registrato parecchi contenuti e un video è già uscito mentre questo secondo ho deciso di farci un commentario sopra perché non avevo la certezza che l'audio si sentisse bene in realtà come si è sentito dall'altro video, se l'avete visto, si sentiva abbastanza bene dunque in futuro diciamo che mi posso fidare del microfono del telefono adesso andremo a vedere un po' quelle che sono le novità che ho trovato io all'Italian Bike Festival ma ce ne sono molte altre, ce ne sono addirittura alcune che io non ho visto perché la fiera è abbastanza grande e se è la prima volta come è stata per me ci si perde quasi all'interno perché ci sono tanti stand, ci sono tante cose da vedere e se non si ha magari un percorso quasi geometrico è difficile riuscire a trovare tutte le chicche e andare a vedere tutti gli stand quindi l'anno prossimo sicuramente sarà un po' più organizzato e andrò a vedere quasi tutti gli stand perché spero ci sia un tempo un po' migliore di quest'anno che era un po' inclemente il venerdì andiamo subito a vedere cosa è successo e cosa ho visto partiamo da Vision, vediamo che ho registrato qui una bicicletta particolare non so se sia un concept di Vision e FSA che sono praticamente la stessa azienda sono entrambe all'interno dello stesso gruppo poi siamo passati a Cinelli che diciamo è stato solo di passaggio fanno veramente belle bici a Canyon abbiamo dato un occhio alla Speedmax quindi alla loro bici da triathlon che è veramente una bomba l'ho guardata più nel dettaglio nello scorso video quindi nel caso vai a rivedertela qua stavamo commentando un po' il paint job perché è veramente molto particolare, bello e diciamo che dal vivo cambia parecchio nel senso che non ci si rende conto dal video della bellezza di alcuni frame e di quanto siano in realtà particolari queste biciclette se non si vedono dal vivo quindi vi consiglio di vederle nel caso abbiate la possibilità perché cambia parecchio qua ho dato un occhio dentro allo stand mat ma era ancora tutto chiuso poi uno sguardo veloce amiche e invece siamo soffermati un po' a Rudy Project che aveva parecchi caschi anche con chiusura magnetica caschi aero, caschi più ventilati caschi anche da crono che diciamo sono molto importanti in questi anni perché si stanno sviluppando veramente tanto qui vediamo invece la Colnago di Tadej Pogacar veramente particolare c'erano sia quella della vittoria al Giro d'Italia sia quella al Tour de France una cosa che ho notato è che se vedete dal secondo piccolo video la lunghezza dello stem quindi dell'attacco manubrio è veramente notevole sarà almeno 130 se non forse un 140 mm e diciamo che dal vivo si vede che è proprio lungo quindi è parecchio allungato nella sua posizione Tadej poi c'è anche da dire che il telaio Colnago è meraviglioso ha delle linee molto molto belle e una cosa che si nota sono le ruote le ruote sono veramente larghe nonostante poi ci siano dei copertoni da 28 rischiano di essere dei 30 perché il rim all'interno del cerchio il canale è molto largo e quindi si vede proprio che sono larghe hanno questa larghezza che sicuramente non è molto aerodinamica ma garantisce più comfort e una resistenza a rotolamento inferiore da quello che viene dichiarato quindi queste sono bici sicuramente di altissimo livello e si sta attenti anche a questi dettagli ha le bici cipollini che abbiamo dato diciamo giusto un occhio bici meravigliose si vede il carbonio che è fasciato in un modo particolare veramente molto interessante qui mi soffermerei perché sullo stand di Shikon abbiamo dato un occhio alle borse da viaggio che sono un accessorio molto importante per chi viaggia e utilizza la bicicletta per andare in giro per il mondo e magari per le gare si ricerca una borsa che sia diciamo resistente ma anche non troppo costosa perché comunque questi attrezzi costano parecchio sono circa sugli 800.000 euro e qua si vedeva bene come è tutta incastrata trazionata e diciamo coperta da alcuni teli e da delle impalcature che vengono date insieme alla borsa quindi molto interessante questo sviluppo di nuove tecnologie nel ambito delle borse da ciclismo qua c'erano gli stand Giant aveva veramente tanto spazio così come Bianchi aveva tantissime biciclette purtroppo non abbiamo potuto provarle qua si vede la Bianchi Altrix R4 dovrebbe essere nella sua configurazione di base con un 105 elettronico veramente molto bello anche questo cambio poi si passava a un gruppo successivo lo SRAM Force e nella parte diciamo successiva l'ultima bicicletta era la top di gamma con il manubrio aero e la componentistica top di gamma il reparto corse come lo chiama Bianchi ovvero il top di gamma poi siamo passati da Bottecchia anche qua devo dire che ho visto delle bici veramente veramente belle non mi sono soffermato tanto ma meritano sono veramente particolari anche i colori che scelgono li vedete queste venature questi colori molto appariscenti piacevoli siamo poi arrivati allo stand Torpado che è sotto lo stesso gruppo di Fondriest e qui abbiamo dato un occhio alle biciclette Fondriest che sono particolari sono diciamo nuove come concezione sicuramente sono telai di alta gamma e sono equipaggiate anche con group set di altissimo livello come vedete poi anche da questo breve video ci sono tutte le accessoristiche quindi pulli wheels oppure le componentistiche per la mountain bike molto interessanti anche quelle quindi la fiera non è solo della bicicletta e del ciclismo in sé ma ci sono anche tanti elementi extra come questo il refrigerante diciamo studiato da questa azienda che è stata poi acquistata da WAU che permette di andare a raffrescare con il nastro manubrio e con il telo che non ho ripreso ma è un telo che se viene bagnato dal sudore va a rinfrescare è una sensazione veramente particolare un prodotto che sicuramente verrà implementato anche in altri modi come ad esempio magari nel casco oppure mi viene in mente nell'accessoristica come l'abbigliamento perché nel ciclismo si sta curando sempre di più il cooling durante l'attività e questo è un accessorio che permette di farlo quindi molto interessante secondo me vedremo molti molti più oggetti utilizzare questa tecnologia in futuro siamo poi passati allo stand di Specialized che però non abbiamo visto diciamo all'interno era particolare perché Specialized fa i 50 anni quest'anno dunque avevano una serie di accessoristiche particolari e di componenti che richiamavano la storia del brand poi siamo passati da Trek qua si vede la nuova Madonna che è particolare secondo me hanno fatto un po' una cosa così che secondo me non convince tanto nel senso che la nuova Trek non è né aero né troppo da scalatore è una cosa un po' a metà non sono convintissimo di questa cosa a me piacciono molto le bici aero quindi mi piaceva tanto la Madonna precedente e la Gen 7 però hanno scelto così e va bene anche così una bici che invece non ha abbandonato la sua anima aero è sicuramente 3T che con queste biciclette queste in realtà sono delle gravel come vedete particolari con questi intrecci di carbonio che si vedono molto molto belle ma anche le bici da strada come vedete qui sono aero sono veramente cattive hanno un profilo del tubo anteriore che è ampio è veramente grande e sicuramente sarebbe interessante provarle qua poi siamo passati da casc che ha una serie di soluzioni per i caschi interessanti perché sono curati anche nel dettaglio si vedeva ad esempio il laccetto che sta sotto il mento in pelle come si vede adesso nel video e è un dettaglio che poi fa la differenza perché il comfort è importante quando si utilizza un casco e poi c'erano anche degli elementi in carbonio insomma sono caschi che giustamente costano molto ma sono anche molto ricercati e sono con tecnologia italiana quindi diciamo che è tutto un livello superiore di tecnologia siamo poi passati allo stand factor dove c'erano le one che sono veramente molto belle e in seguito siamo passati alla tt bikes di tdp questa con un manubrio veramente particolare mi soffermerai su questa cosa ovvero che è la prima volta che ho visto l'integrazione all'interno del manubrio in carbonio neanche Ganna ce l'aveva così particolare e questo significa che hanno studiato veramente tanto sulla sua bicicletta sulla bici di Itaday per andare a cercare tutti i grammi possibili anche in vista della Crono che c'era quest'anno in salita al Tour de France e diciamo che vederla dal vivo è molto particolare perché è una bici grande con dei tubi profilo lunghi che si sente proprio la rigidezza torsionale nonostante io non l'abbia provata ma lo trasferisce proprio questa sensazione e poi è estremamente aero quindi bellissima si vede la borraccia aero che è stata studiata anche qui in Galleria del Vento per riuscire a ottenere un'aerodinamica perfetta la corona anche qui come nella bici la strada è sempre in carbonio se non sbaglio Carbon Ti è l'azienda produttrice e dato che eravamo allo stand prologo si vedeva la sella che era veramente molto bella particolare diversa dalle selle da triathlon o da TT perché era molto poco spessa e dunque era molto leggera quindi una tecnologia particolare che sicuramente se io avesse una TT bike mi comprerei perché una sella così è veramente bella poi siamo passati a vedere la bici di Alberto Bettiol che poi è passato in Astana Kazakhstan quindi non utilizzerà più quel modello di Cannondale qui da Spank come ho detto prima c'è un po' di tutto qua si vedono i vari attacchi manubrio anodizzati quindi con colori particolari poi siamo passati da Merida dove abbiamo dato un occhio giusto così veloce alle due biciclette la scultura e la Reacto poi siamo passati di nuovo a Trek che in realtà questo era lo stand di Sram con la bici di Erisa Longoborghini tutta personalizzata e bellissima rosa qua invece vedete il video di me che sto cercando di fare una challenge cos'è successo allo stand di WAG per RMS c'era questa challenge di cercare di stare in equilibrio su questa bici che è piccolina e sembra molto più semplice di quello che non era in realtà perché è una bici senza freni quindi non si può fare track standing e essendo così piccola si ha difficoltà anche a starci sopra dunque c'erano tre tentativi e io sono riuscito a stare sopra per più di 5 secondi dunque poi ho vinto qualche gadget e niente è stata un un'esperienza simpatica perché comunque il bilanciamento e il trovare le soluzioni è qualcosa di interessante che mi ha fatto un po' pensare e dunque niente questo era un piccolo divario su quello che è stato il mondo delle bici in quel giorno e questo è quanto spero il video ti sia piaciuto fammi sapere nei commenti se anche tu sei stato alla fiera e se l'anno prossimo hai voglia di andarci noi ci vediamo al prossimo video come sempre buone allenamenti ciao buone allenamenti ciao buone allenamenti Grazie a tutti.